Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive. Oggi parliamo di questa macchina che abbiamo già presentato precedentemente perché è una BMW upgradata come si suol dire a M3, sono state fatte tante modifiche per cercare di farla somigliare esteticamente ovviamente non certo come motore, alla versione M3. Sono stati fatti tanti lavori, direi che il risultato finale comunque paga l'occhio come si suol dire e il cliente poi si è affezionato alla nostra officina e ce la da da lavorare fra virgolette anche per le varie parti meccaniche. L'ultimo lavoro appunto che ci ha chiesto è il fatto che la macchina gradualmente aveva perso potenza e poi ultimamente aveva cominciato a fumare in maniera consistente. Allora controllato il tutto abbiamo scoperto che la causa della turbina era andata cioè nel senso c'era l'alberino del turbo che ballava dentro che sembrava un topo dentro la gabbia. Ecco il tutto al di là del fatto che la turbina può andare per n motivi, dopo casomai ne parliamo, la causa principale era dovuta al collettore sul quale, allora questo qui è il collettore, un quattro cilindri e qua è attaccata la turbina, quindi la turbina aveva, il collettore aveva una crepa qua dal quale sfiatavano i gas di scarico e una bella crepa che spero si veda qua, non so se riesci a inquadrarla da qui a qua, ovviamente questo è questa è ghisa, ovviamente adesso la crepa si vede in maniera abbastanza netta, ovviamente essendo il metallo, cioè il metallo si dilata termicamente quando è caldo tende ad aprirsi, questa crepa qua che adesso ha freddo è così, quando il motore è in temperatura si allarga in maniera esponenziale, quindi da qui a cominciava a sfiatare, infatti si vede che tutti questi punti di ancoraggio sul motore sono diventati neri ma soprattutto sfiatava in maniera eccessiva da qua, questa è stata la causa del fatto che la turbina a questo punto lavorando con delle pressioni diverse in breve tempo diciamo è deceduta come si suol dire, quindi la turbina da questa parte, abbiamo quindi messo un collettore nuovo, lì non ci sono pezzi particolari, cose particolari, abbiamo preso un pezzo originale BMW perché non c'era altra soluzione, quindi cambiato con un collettore nuovo, il turbo è qua sotto, lo si vede da qua, è un po' nascosto con quella turbina, questo qua è l'attuatore elettronico, quindi abbiamo smontato la turbina, questo è l'aggancio sullo scarico, lì c'è il downpipe, quindi tutto il gruppo e questo qua, il collettore ovviamente all'interno sotto questo carter, sotto questo carterino, quello che abbiamo fatto è già che eravamo in opera abbiamo ovviamente revisionato completamente la turbina cambiando tutta la parte centrale e già che c'eravamo abbiamo fatto uno stage 1, quindi abbiamo modificato la girante di aspirazione montando una girante più leggera in Avional con un numero di pale diverso, una conformazione della palla diversa, attraverso il quale avendo molto meno inerzia la macchina pur diciamo anche se non andiamo a ritoccare la mappa, questa macchina l'avevamo già mappata nei lavori precedenti, non necessitiamo di un ulteriore ritocco perché la volumetria interna cambia di poco, cioè le palette sono più lunghe, buttano dentro un pochino più di aria però con la mappatura precedente eravamo già diciamo sul limite giusto, quindi giranti di aspirazione in Avional, girante di scarico in Inconel, modifica dell'alberino di lubrificazione che è uno dei punti cardine del turbo, cioè l'alberino sul quale ruotano le bronzine, viene maggiorato, vengono chiaramente modificati i punti di lubrificazione in questo modo, sempre che non si rompa un'altra volta il collettore, cose che possono capitare per l'amor di dio, speriamo che appunto non si rompa una seconda volta, sempre che venga mantenuto come diciamo tante volte una manutenzione, soprattutto l'olio giusto per questo tipo di motore, a livello meccanico la turbina non dovrebbe più avere problemi, la parte diciamo delicata è l'attuatore elettronico, quello al limite a volte succede su BMW, ne abbiamo fatti spesso, diciamo il circuito elettronico dell'attuatore può avere dei problemi, in quel caso si può sostituire o revisionare l'attuatore, mentre la turbina a livello meccanico, col fatto di avere le giranti in Avional che sono molto più resistenti e appunto questa modifica sull'alberino che dovrebbe garantire una lubrificazione maggiore durerà tutta la vita della macchina fin tanto che il cliente non deciderà di venderla, diciamo il discorso turbo l'abbiamo sistemato una volta per tutte. Direi che anche con questo cliente che pian pianino seguiamo anche nella normale manutenzione, anche questo è un lavoro direi fatto con criterio, adesso facciamo le ultime terrature e poi andremo in consegna anche con questa macchina, quindi direi che anche per questa macchina è tutto, vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it all'interno del quale nell'archivio elaborazione troverete più di 2500 schede vettura, incluso questa, solo come BMW ce ne sono mi sembra più di 250, mi potete contattare per qualunque informazione e anche consigli, cioè non è che dovete chiamarmi per forza perché dovete farci fare un lavoro, anche solo un semplice consiglio, noi riceviamo telefonate da tutta Italia, soprattutto spessissimo dal sud ci chiamano per consigli e questa è una cosa che fa anche piacere, non è che uno deve solo essere lì, certo se è un'attività commerciale uno è lì per vendere però anche il fatto di essere apprezzati ed essere interpellati per dei consigli vuol dire che tutto sommato la fama che ci siamo guadagnati in questi 35 anni di lavoro qualche cosa ha dato e soprattutto anche il discorso dei video hanno contribuito molto a come dire a dar fiducia e a farci conoscere anche fuori Milano. Ultimo consiglio quello di cliccare sulla campanella e iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto alla prossima, grazie.